siamo a lisbona e qui direi che il paradiso della micromobilità e certo qui a lisbona ci sono sette compagnie di roleggio c'è quella jump di uber che ha sia biciclette che monopattini anche la bicicletta la sblocchi col qr code stacchi il lucchetto e la prendi non ha costo di sblocco e paghi 20 centesimi al minuto prima ho preso monopattino abbiamo fatto un 2 euro per fare una poco più di dieci minuti però molto carino e qui ce n'è tantissimi veramente veramente un'infinità potete vedere ce n'è di tutti i colori frog line qui addirittura abbiamo questo monopattino qui ce n'è di tutti i tipi non danno fastidio ecco ne uno di quelli di uber in tanti ci vanno in due anche se vietato ma vabbè messo qui sul lungo fiume non danno nessun fastidio guardate quanti mezzi elettrici guarda questo questo con tre bambini due bambini ora tutti in due ne abbiamo altri due lime e uber qui le usano tutti qui non hai problemi a trovarli ne trovi tantissimi per cui è molto facile prenderli andare sono messi abbastanza bene non li vengono lasciati in mezzo ai piedi quindi è una roba che non dà fastidio e aiuta tantissimo guarda quante ce n'è queste biciclette anche il ragazzo lo sta o bloccando o sbloccando con l'applicazione e ora altra cosa anche auto elettriche con la colonnina e tutto che elettrici sono diventati tutti elettrici tutto che portano i giri turisti guarda che bello anche questo elettrico ecco friendly allora vediamole qui c'è frog poi abbiamo ride hive e abbiamo cirque e abbiamo line qui ne abbiamo 3 6 9 12 15 una ventina quasi saranno messi qua sotto quando arrivi dal ponte per arrivare alla torre di belen e lì ne abbiamo ancora tantissimi altri se li vedete dietro l'albero poi qui c'è una zona ci sono delle zone in cui non possono essere bloccati quindi se tu ti avvicini troppo qua alla zona del parco nella torre non ti permette di bloccarlo quindi devi lasciarlo per forza fuori da questa zona questa è un'altra cosa intelligente interessante per evitare che vengano mollati proprio in zone dove possano dare fastidio come vi dicevo lì c'è la torre di belen e qui un'altra fila di monopattini di monopattini biciclette guarda la bicicletta hive allora adesso vi faccio vedere tramite l'applicazione come si fa a sbloccare il monopattino allora vediamo scannerizziamo il codice aspetta perché non è possibile prenotare questa bici non sono riuscito a sbloccare il monopattino mi faccio vedere la bicicletta allora devo sbloccare il QR code che non si legge bloccato il QR code conferma blocco della bici ho liberato il coso ok fatto a posto la bici a posto andiamo a posto e a posto e a posto e a posto e la bici a posto e più la bici a posto e